mister per prima cosa partirei delle condizioni di deciglio e poi una nota ovviamente sulla partita partita che da spettatore esterno è sembrata divertente ma dal punto di vista dell'allenatore della juventus ma innanzitutto una nota violente di mattia che purtroppo ha una lesione accrociato e questo ci fa veramente far male perché comunque il ragazzo si era ripreso stava bene e stava facendo anche una buona partita purtroppo è andata così e quindi avrà il tempo per riprendersi e tornare a giocare per quanto riguarda la partita la partita soprattutto in questo periodo devi comunque chiudere le azioni devi fare più golle ne abbiamo avuti tante abbiamo avuto tante occasioni di ultimo passaggio sbagliate contro lecce comunque che è una squadra noiosa perché ha tecnica velocità è una squadra che ha messo in crisi tutte le squadre con cui ha giocato contro abbiamo rischiato anche di pareggiare perché poi dopo se non fa il terzo gol abbiamo avuto subito un'occasione con Miletti subito dopo due minuti non l'abbiamo fatta e poi abbiamo rischiato poi sicuramente detenzialmente abbiamo concesso un pochino troppo anche da niente su questo bisogna migliorare. Studio. Giampaolo Pazzini. Ciao mister buonasera. Ciao Giampaolo. Io mister voglio chiederti subito di Blauic. So che te l'ho chiesto anche nelle tre partite però insomma io avevo detto che un attaccante come vive sempre questi momenti e io lo vedevo dal linguaggio del corpo che magari uno non si sentiva molto tranquillo infatti oggi ha fatto un grande gol dopo il gol anche i suoi movimenti erano diversi. Ha fatto un gol straordinario e io credo che ha finito la partita soprattutto nel secondo tempo ha finito la partita in crescendo a campo aperto nel duello corpo a corpo e quindi sono contento per lui ma purtroppo si è dovuto scontrare con una realtà che come esperienza dove non c'è mai scontrato perché comunque era arrivato dalla Fiorentina e dove tutto ne andava bene, dove tutto era bello non aveva ancora intoppato un momento del genere ma questo fa parte della carriera di ogni giocatore e quindi dovrà rimanere sereno che poi le cose sicuramente cambiano e quindi spero per lui e per noi che sia un punto di ripartenza. Più contento per il primo gol in Serie A di Paredes o per quella munizione che non gli permetterà di giocare con l'Atalanta? Sono contento perché Leandro ha fatto una partita importante soprattutto davanti alla difesa è stato equilibrato rispetto a quello che era qualche tempo fa dove andava un pochino troppo agito per il campo però poi stasera hanno fatto veramente una buona partita tutti e credo che Bonucci stasera abbia fatto una partita importante ai suoi livelli quindi sono contento per lui Breme anche se la fine è un po' stanco però ha giocato dei buoni palloni anche lui è il ragazzo che si è più fidale dei suoi piedi perché ha dei buoni piedi e quindi hanno fatto una vittoria meritata contro un ottimo Lecce non sapevamo più neanche come si faceva gioire per una vittoria perché era un mese che cominciavano la partita è vero, dal primo aprile contro il Verona fatato anche questo tabù iniziato maggio, ha cambiato mese Allegri Dario Marcolin Ciao Max, sorrido perché comunque nevi un inizio nuovo di un mini campionato e così oggi è stato, ma ha impressionato due cose allora quel gol annullato a Miretti sarebbe stata un'azione fantastica per i tuoi ragazzi soprattutto la nuova generazione che viene fuori ma soprattutto la solidità della tua squadra nel senso giocare con Lecce è molto difficile perché ti vengono a gradire perché hanno intensità, perché hanno un obiettivo fondamentale e vengono a giocare nello stesso modo però la solidità della Juventus a un certo punto poteva essere anche più rotondo il risultato però ha passato dei momenti, ha passato tre o quattro partite la tua squadra nella partita l'ha saputo fare bene No, no, assolutamente, però ultimamente tra Bologna e oggi abbiamo sbagliato troppo davanti e su questo bisogna migliorare perché comunque non possiamo tenere aperte le partite perché poi come succede nel calcio di oggi un calcio d'ango, una punizione direi che bisogna assolutamente migliorare poi questa situazione di Danilo, diciamo via un pizzico di sfortuna Voi vede l'Atalanta, anche oggi ha vinto, domenica vi incontrate, è un bello scontro diretto ci sono dei gioci in qualsiasi Eh sì, questo fa parte del calcio, è bello, bisogna essere bravi, lucidi, riprendere energie e andarci a giocare questo scontro diretto quindi noi sappiamo comunque, non è così, è l'Atalanta, Milan, Lecce e Cremonese noi vi dobbiamo fare un tot di punti perché se non arrivi a 72, vale a 73 difficilmente insomma entri dentro i quattro e domenica è un, diciamo, è uno snodo importante con gli scontri retti che ci sono domenica sapremo più o meno a che quattro sarà la Champions Vabbè, sei arrivati a 60, superati i 60, adesso si punta a quei 73 per la zona Champions Eh, intanto a 60 abbiamo fatto una fatica per arrivarci e scavallato Ma le ho detto ragazzi, domenica è stata una parte difficile perché il Bologna comunque aveva messo in corso tutti e soprattutto rientrare, giocare nel secondo tempo creando dopo quello che avevamo sbagliato e dopo essere sotto sul rigore averne sbagliato un altro, in questo momento non era facile quindi merite solamente ai ragazzi che hanno avuto una reazione e sono stati forti a livello mentale Dario, un'ultima Sì, la curiosità è su Pogba perché l'abbiamo visto entrare subito una sterzata al limite dell'area stile Pogba, no? Come ci ha abituato lui però a che punto è? Perché mi sembra che per questo finale se ritrovi in Laui, ci si arriva a Pogba ci sono queste partite fondamentali diventa un gruppo che magari poi non hai mai avuto durante l'anno Pogba stasera è entrato in Togba per la prima volta l'ho visto meglio, fiducioso ieri ci ho parlato io l'avrei voluto Pogba nelle migliori condizioni da lì della stagione però è stata una stagione maledetta per lui quindi in questo momento della stagione non è in condizione per giocare 90 minuti ma lo sa anche lui cerchiamo di migliorare il minutaggio ma che giochi 30 minuti, giochi 45 l'importante è quando entra deve fare come oggi ma in questo momento, soprattutto nel calcio di oggi non è importante se uno gioca 90 o uno gioca 60 l'importante è che entri di termini e questo è molto importante grazie Allegri grazie a voi, buona serata ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video prima di partire mi raccomando come al solito iscrizione è solitamente importante campagna attiva, like, commenti fatemi sempre sapere cosa ne pensate mi fa sempre piacere positiva e negativa che sia l'importante è che ci sia rispetto e iscrizione anche al gruppo Whatsapp tra i miei iscritti le trovate tutte giù in descrizione allora, si è appena conclusa la partita Juventus-Lecce abbiamo vinto 2-1 quindi si ritorna finalmente alla vittoria era una vittoria che comunque cercavamo anche dalla partita contro il Bologna finalmente ci siamo riusciti però che sofferenza sofferenza pura, sofferenza unica partiti non benissimo anche perché tra l'altro c'è stato un gol del Lecce con un fuorigioco assolutamente netto e alla fine praticamente abbiamo giochicchiato nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina siamo anche riusciti a arrivare al gol con Paredes addirittura con Paredes con un calcio di punizione forte basso sul palo meritatissimi il vantaggio assolutamente poi saremmo anche riusciti a raddoppiare con Miretti però c'era un fuorigioco praticamente della punta della scarpa di Miretti che praticamente è invalidato quello che è un gol che avrebbe potuto se non altro metterci un po' più a sicuro da lì praticamente dopo 5 minuti il rigore che è un rigorino secondo me perché il fallo di mani c'è stato uno di quei classici rigori che se te lo fischiano a favore insomma ne sei contento se te lo fischiano contro ti gira un po' e quei rigori che praticamente il 50% è da dare 59% perché comunque il tocco di mano c'è stato il braccio era largo però sostanzialmente era abbastanza normale come movimento secondo me poi vabbè insomma è il rigore insomma te lo prendi alla fine è andata dopo 3 minuti il re di vivo Vlaovic è riuscito praticamente a segnare con una bella girata di sinistro sul palo a incrociare finalmente si è sbloccato e devo essere sincero quel gol probabilmente qualcosina ha smosso perché da lì un po' insomma se non altro ha fatto qualcosa di più ha fatto un po' di sponde ha fatto un po' salire la squadra ha perso meno un pallone quindi insomma pare che quel gol qualcosa abbia svegliato e speriamo che ne sia solo l'inizio al secondo tempo abbiamo un po' giocato non abbiamo fatto chissà che cosa però insomma avremmo dovuto chiuderla in 3 o 4 occasioni soprattutto nella parte finale con Chiesa che aveva insomma di fianco Kostic che aveva praticamente tutto l'autostrada davanti per poter arrivare sulla porta e però poi alla fine insomma si è incaponito e alla fine ha perso la palla quindi ci sono state 2 o 3 occasioni che avremmo potuto e dovuto gestirla assolutamente meglio è cosa che non è stata fatta soffriamo troppo fin troppo nella fase difensiva praticamente ogni qualvolta il legge o l'avversario di turno arriva sullo nostro 3 quarti in qualche modo riesce ad entrare in aria in qualche modo riesce ad arrivare al tiro in qualche modo si rende pericoloso alla fine magari con una grande parata di Scesini con la chiusura del nostro difensore però noi facciamo una fatica assurda per poter arrivare sulla 3 quarti poterci rendere pericolosi invece praticamente l'avversario di turno riesce alla fine con una facilità quasi imbarazzante arrivare e a metterci in difficoltà perché il legge ha avuto almeno almeno 4 o 5 occasioni quasi nitide anche abbastanza importanti fortuna vuole che alla fine ci è andata bene e non sono riuscito a fare granché c'è stato banda praticamente noi soffriamo quelli veloci quegli esterni veloci come banda che praticamente si è mangiato per 3 quarti della partita quadrato che è subentrato a De Sciglio che purtroppo pare si sia infortunato al ginocchio e pare sia un fortuna grave speriamo che non sia così quindi i miei auguri i migliori auguri a De Sciglio siamo arrivati finalmente a riportare 3 punti a casa era importante farlo era assolutamente indispensabile a farlo perché comunque sia dobbiamo dare continuità o perlomeno cercare di continuare su quel percorso e allontanarci un po' dal terzo dalla terza piazza per poter rambire a quello che è la seconda detto questo io vi ringrazio vi saluto vi invito mi raccomando iscrivete al canale è assolutamente importante come attivare la campanella altrettanto importante e iscriversi anche al gruppo whatsapp 3 miei iscritti le info le trovate in descrizione detto questo io vi ringrazio vi saluto e fino alla fine sempre nonostante tutto forza iume nonostante 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 nonostante